Buongiorno, eccoci qui ritrovati al momento dell'ospite. Allora diamo subito il benvenuto a Mauro Vale, storico di Gemona, che ci presenta un libro molto particolare. Buongiorno Vale, e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Il suo cognome è benaugurante per forza e quindi è sicuramente un buongiorno ancora più energico. Allora, è uscito da poco quest'anno questo volumone, gli statuti di Gemona, per il governo della magnifica comunità, 1381. Eccolo qua. Vale è uno dei curatori, uno degli storici che ha partecipato, ha scritto uno dei saggi conclusivi di quest'opera, un'opera importante che è stata scritta da Alida Londero, che è scomparsa quest'anno. Allora Vale, partirei proprio da chi era Alida Londero e dal suo lavoro strepitoso e preziosissimo di ricerca che ha portato appunto alla pubblicazione di questo volume. Sì, Alida Londero si è interessata a questi documenti che risalgono a 640 anni fa, già da una decina d'anni. La sua idea era quella di pubblicare in una edizione curata da lei ovviamente il testo originale latino e curare anche la traduzione in lingua italiana in maniera che a tutti fosse consentito di comprendere quelle che sono le regole che gli statuti hanno adottato nel 1381. Alida Londero sperava di poter pubblicare queste sue traduzioni e edizione del testo latino, accompagnandole con le immagini delle pagine degli statuti che sono redatte su pergamena e appunto sono state curate nella edizione originale da un notaio gemonese, Filippo Formentini, il quale era anche segretario della magnifica comunità e cancelliere, quindi un personaggio molto importante nella fine del Trecento. Questo programma di Alida purtroppo non ha potuto essere realizzato anche perché l'edizione contemporanea anche dei testi originali scritti in gotico, un carattere gotico, sulla pergamena avrebbe comportato una spesa notevole. Spesa che invece è stata affrontata per questa edizione dal dottor Adriano Londero, il quale già sindaco di Gemona ha voluto in questa maniera portare a conoscenza dei gemonesi e degli studiosi di storie locali, di storia patria, e questo importante documento. Per risale dicevamo al 1381, anche se era già confezionato, era già pronto per essere pubblicato nel 1379, ma il patriarcato in quel momento era impegnato nella cosiddetta guerra di Chioggia. Ed era alleato il patriarcato aquileiese con la Repubblica di Genova contro la Repubblica di San Marco. E questo periodo che vide anche molti gemonesi impegnati in queste azioni belliche hanno praticamente non consentito, impedito la pubblicazione dei testi. Si potrebbe pensare che questa adozione sia molto tarda rispetto ad altre adozioni di statuti comunali che avvengono in altre realtà amministrative del Friuli. Gemona però ha una serie di precedenti. Nel 1350 vengono adottati statuti che sono aggiornati nel 1355. Lo ricorda perfettamente Piercarlo Begotti, il quale accompagna ha la pubblicazione con un suo saggio. Sono aggiornati nel 1355, ma fanno riferimento ad altri statuti precedenti adottati nel 1305. Quindi gli statuti di Gemona, che noi sappiamo esistenti, risalgono per lo meno al 1305. Ma un altro studioso che ha, con un saggio importante, accompagnato la presente pubblicazione, il professor Giuseppe Mazzanti, ricorda che questi statuti di Gemona del 1381 hanno spesso volentieri un profumo, un profumo che si rifà alla legislazione longobarda. Addirittura quindi si può pensare che gli statuti di Gemona esistano già nel 1200, forse sul finire del 1100, del 12 secolo. Si può pensare quindi che effettivamente ci sia un collegamento stretto tra la presenza consistente di epigoni della presenza longobarda, friulana a Gemona che in qualche maniera hanno orientato la produzione degli statuti facendo riferimento a quella che era la legislazione longobarda precedente. Allora, senta, questo lavoro archivistico, adesso chiedo a Tiziano, prima lei ha menzionato queste, vedete, sono riprodotti all'interno del volume anche le pagine, che sono pagine ovviamente conservate negli archivi, potete immaginare anche quanto siano delicate, fragili e preziose e appunto per fortuna c'è chi si occupa della tutela e della conservazione di questi documenti. Siamo andati molto indietro nel tempo, perché appunto se andiamo tra il 1100 e il 1200, insomma, sono veramente le radici molto profonde della Gemona d'oggi, della società italiana, anche del nostro paese, diciamo, no? Perché sono così attuali in realtà questi statuti, anche se sono così antichi? Ma diciamo che sono attuali nel senso che una comunità ha sentito l'esigenza di dotarsi di regole chiare, definitive, che continuano a valere anche nei secoli successivi. Da sottolineare il fatto che questi statuti rimangono in vigore praticamente fino alla rivoluzione francese, all'arrivo qui delle truppe napoleoniche, alla sconfitta o alla sparizione della Repubblica di San Marco. E anche durante il periodo che il Friuli ha passato sotto le ali del Leone di San Marco, anche in quel periodo gli statuti di Gemona hanno mantenuto la loro valenza, la loro validità. Le regole, insomma, erano fondamentali per la convivenza in una comunità organizzata, in una comunità che si sentiva padrona del proprio destino. Io penso che questi statuti possano in qualche maniera essere collegati al desiderio che tutti quanti noi abbiamo, anche l'uomo del 2000, insomma, senti la necessità di regole che possano in qualche maniera così arginare le pazzie, le rivoluzioni che possano condurre una comunità all'interno di regole ben definite. Queste regole ben definite, diciamo, viviamo in un periodo un po' particolare che sicuramente ne entrerà nella storia e le future generazioni di Mauro Valle, i futuri Mauro Valle, tra 100-150 anni chissà, troveranno e studieranno questo periodo molto difficile che stiamo passando, dove abbiamo un'ordinanza al giorno, più o meno, ma lo dico senza polemica, è una necessità anche, proprio che disciplina ora più che mai anche l'ambito privato. Anche qui non si scherzava, nel senso che le regole erano chiare ed esplicite, in un certo senso diciamo che ci ritroviamo anche nell'attualità. Sì, sì, diciamo che purtroppo la contingenza ci costringe a seguire delle regole. I gemonesi del tempo anche sentivano la necessità di seguire le regole, ma ad esempio un punto fondamentale della vita di gemona negli anni del tardo medioevo è quello che fa riferimento ad una normativa, quella del Niederlecht, che impediva ai trafficanti, ai mercanti, ai trasportatori di generi di ogni tipo, impediva di passare oltre gemona senza fermarsi. Tutti quanti avevano l'obbligo di fermarsi, di scaricare i carichi dei loro carriaggi, di ricaricarli il giorno dopo e questo comportava una presenza determinante per quanto riguarda la vita economica di gemona, una presenza di persone che venivano da ogni parte del mondo del tempo. Venivano dall'Italia, come venivano dai paesi oltralpini, venivano dalle zone danubiane e così via, trasportando le loro merci. Questo obbligo del Niederlecht aveva fatto sì che oltre alle merci arrasse a gemona anche idee, anche suggestioni artistiche, anche informazioni di carattere più generale. gemona godeva di questa ricchezza non soltanto economica ma anche intellettuale e anche morale. La vivacità culturale che l'ha portata nella storia e tutt'oggi, sicuramente c'è anche grazie a un lavoro come questo. Il nostro tempo a disposizione è finito, io ringrazio Mauro Valle per il suo contributo da storico per il lavoro, il suo contributo per questo volume, naturalmente gli statuti di gemona scritto appunto da Alida Londero, una documentazione storica di Alida Londero. Grazie signor Valle per essere stato con noi e pubblicità, ci rivediamo subito dopo. Grazie.